Il tema di quest'anno è stato scelto in realtà per la particolare sensibilità di Maurizio Rampino nei confronti di questo tema dell'ambiente in generale. Ogni suo pezzo giornalistico era non solo il racconto della verità, la fotografia della verità dei fatti, ma voleva sempre lanciare un insegnamento nell'ambito del sociale e nell'ambito dei problemi ambientali. Ovviamente si tratta di un tema di grande attualità che non si può liquidare sicuramente in una battuta giornalistica. L'unica questione che in qualche modo si può sintetizzare e l'unica cosa certa è che in questo settore la provincia di Lecce ha con il russolo due criteri, la tutela dello sviluppo del territorio, ma nello stesso tempo la tutela dell'ambiente e della salute di città. Questa è la nostra bussola, poi di tutto ovviamente si può discutere dei mezzi, degli strumenti per raggiungere questi obiettivi, si può discutere, è giusto che si faccia senza strumentalizzazioni, ma l'unica certezza sono questi obiettivi.